buongiorno da corridore nato vi saluta un barola lucente raga e vi pianta una sghitarata di quelle mega e vi presenta lo shop fornite di oggi alcune skin sono molto carine eccole qua ritorno di birdie e il suo piccolo relativo 800 bucks per birdie palla in buca il suo piccolo relativo a 500 bucks molto carina anche la skin dello squadro vedete fa un cittadino versione femmina e versione maschio tutto 2200 bucks fantastico il deltaplano guardate che potenza vela squalosa ha veramente paura stagione 3 capitolo 2 ragazzi il suo piccolo relativo lo schiaffo 500 bucks e la sua copertura 300 bucks passiamo secondo me alle skin che sono più belle di oggi la squadra pisto eccole qua nel dettaglio versione donna bellissima bellissima fa parte del se squadra corsa guardate gli stili con le diverse colorazioni andate verde questo viola molto carino giallo viola bianco bellissimo e guardate anche questo molto bello stagione 4 capitolo 2 che si acquista con 1200 bucks e la versione maschio pole position spettacolare ragazzi ti sto facendo un pensierino con le stesse colorazioni nella versione femmine il piccone miscela esplosiva 800 bucks molto bello anche lui vedete con le varie colorazioni varie stili bello eh ragazzi cosa ne pensate della scuola corsa sono le skin che mi piacciono di più oggi vabbè andiamo avanti moxy il suo piccolo relativo a sciarandello e la sua copertura 1200 per la skin 800 per il piccone e 300 bucks per la copertura guardate sempre in due colorazioni in due stili predefinite e il suo dorso decorativo anche lui in due colorazioni passiamo poi al sapientona 1200 bubax stagione 7 il fenicottero reale 800 bubax e gli emoti presenti oggi sullo shop breakdance carina molto bella 800 bubax il bang a 500 bubax carina anche questa molto bella e pizza fatti che io ce l'ho già vuolete una pizza eccovala qua ve la porto mmm che buona mamma mia è una copertura a 500 bubax della stagione cimi capitolo 2 infine ancora il set dello spazio che era già presente ieri ve lo rifaccio vedere il bando completo rifley e seno morfo a 2200 vedete gli strumenti di raccolta i picconi relativi e le moto a 1500 se no le skin vendute separatamente come vi avevo già detto ieri seno morfo a 1600 il costume di rifley a 1500 la soppettatore un toracica delle moto guardate guardate qua guardate qua wow a 300 bubax e piccoli venuti separatamente 800 per il braccio caricatore e la vetta spettacolare a 1200 bubax con questa vi vedranno sicuramente dall'alto che potenza ragazzi presente ancora il fantastico le fantastiche skin di flash pacchetto completo a 2002 se no venduti separatamente la skin a 1500 le moto bocone il volo a 400 i picconi relativi laceratori a 1200 guardateli ancora un attimo sempre presenti da un bel po di giorni street fighter vedetelo pacchetto completo oppure i personaggi separati ryu e charlie i suoi picconi relativi il castello di guerra e il deltaplano sumo e infine il bundle ride bene chi ride ultimo venduto al 29.99 di fortnite vedetelo nel dettaglio dove si include il costume di joker comunque oggi le skin che mi piacciono di più sono proprio set squadra scorsa e quindi pole position o pitstop ditemi cosa ne pensate voi delle skin di oggi ok ragazzi ora vi auguro una buona giornata buon weekend e buon sabato ragazzi alla prossima presentazione dello shop di fortnite vi saluta corridore nato ragazzi mi raccomando visitate le mie line ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie a tutti.